Sei postazioni dedicate esclusivamente all'esecuzione di test rapidi antigenici sui bambini al fine di rendere più rapido il loro rientro a scuola. È il risultato del protocollo siglato da ASLBT rappresentanti della pediatria di famiglia per qualificare un percorso certo e rapido sui tamponi da effettuare ai bambini. La normativa in vigore infatti impone, dopo cinque giorni di assenza da scuola, un certificato rilasciato dal pediatra che escluda patologie trasmissibili. Saranno dunque sei le postazioni sul territorio dedicate ai bambini. In tali postazioni saranno effettuati test rapidi antigenici. Su appuntamento rilasciato dal pediatra, il bambino farà il tampone rapido nel luogo più vicino e nei tempi consoni a rientro a scuola con comunicazione in giornata del risultato. L'obiettivo raggiunto è stato salutato con soddisfazione dal direttore generale della ASLBT Alessandro Deledonni, il quale è evidenziato come l'azienda sanitaria si attiva sin da luglio nell'affrontare le questioni che riguardano la scuola. In attesa che il servizio sia attivi, delle donne ha evidenziato come l'acquisto dei test rapidi antigenici rientri in un più ampio progetto di gestione delle problematiche legate alla scuola. Abbiamo più volte incontrato i dirigenti scolastici per attività di informazione e formazione. Abbiamo messo a disposizione un questionario di autovalutazione per la corretta gestione delle procedure di sicurezza. Abbiamo promosso e animato incontri dedicati in prefettura e ora, ha affermato delle donne, siamo attivamente presenti per consentire e regolare il rientro a scuola dei bambini che fanno assenze prolungate per più di cinque giorni. E per questo ringrazio i pediatri di famiglia. A proposito dei pediatri, il rappresentante della BAT Luigi Nigri ha sottolineato come il protocollo andrà a facilitare la gestione da parte delle famiglie delle problematiche legate alle assenze.